I bambini di Pesche danno il buon esempio ripulendo il piccolo borgo della provincia di Isernia dai rifiuti lasciati a terra da cittadini poco attenti in un'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale e dalla nuova giunta guidata dal sindaco Marian Tenucci. La lezione ambientale dal grande valore pedagogico ha coinvolto gli studenti della scuola materna Gesù Bambino e della scuola elementare Padre Pio di Pesche tenendoli impegnati lungo i vicoli e le strade cittadine muniti di guanti e sacchetti della spazzatura sotto gli occhi attenti del sindaco e delle maestre. Il titolo di questa giornata è Ripuliamo Pesche abbiamo coinvolto tutti i bambini, abbiamo coinvolto la Proloco proprio per essere vicini alla scuola e appunto al paese per rispettare quello che è l'ambiente del paese infatti oggi è una giornata che riguarda l'ecologia riguarda i temi dell'educazione ambientale e siamo orgogliosi perché è la prima iniziativa che come amministrazione comunale abbiamo organizzato spero che ce ne siano tante altre perché abbiamo proprio come dire l'intenzione di essere vicini a tutta la comunità. Il nuovo sindaco di Pesche, Marian Tenucci, inaugura così il suo mandato all'insegna dell'ecologia coinvolgendo la scuola in una vera e propria lezione green. I bambini hanno raggiunto il centro storico a piedi raccogliendo i rifiuti lungo il tragitto pieni di determinazione e buona volontà per dare nel loro piccolo un importante contributo al paese. A scuola già facciamo la raccolta differenziata quindi i bambini separano già stando a scuola la carta dal vetro, dalla plastica, dall'umido e dall'indifferenziato. E' da sempre la scuola che fa queste cose però con l'introduzione dell'educazione civica dell'anno scorso anche tenendo presente l'agenda del 2030 noi siamo chiamati ulteriormente a fare interventi educativi sui bambini e questa iniziativa in qualche modo ci distacca dalla teoria e passiamo alla pratica grazie anche all'iniziativa della nuova amministrazione che ha proposto alla scuola questa attività.